Il candidato ideale per la tua azienda esiste! Trovalo con noi! Come? Accedi al tuo profilo aziendale, inserendo user e password. Vai alla sezione Gestione candidature e vedi le persone che si sono proposte. Seleziona il profilo che ti interessa e tramite calendario blocca due o più opzioni di orario da inviargli come proposta d'incontro. Seleziona Invita colloquio e procedi con l'invio. In attesa della risposta del candidato, gli slot da azzurri diventeranno arancioni. Una volta che l'invito verrà accettato, riceverai una mail alla tua casella di posta e lo slot sul calendario diventerà verde. Cliccandoci sopra troverai tutti i dettagli dell'incontro, data, nome del candidato, posizione offerta di lavoro e link alla stanza virtuale dove avverrà l'incontro online. Qualora avessi un imprevisto, puoi anche disdire il colloquio inserendo la motivazione e procedere a riprogrammarlo in un secondo momento. Il giorno dell'evento, un po' prima dell'appuntamento, controlla che webcam e microfono del PC siano attivi e funzionino correttamente. Poi collegati al portale e seleziona il calendario colloqui. Dal calendario che si apre, seleziona lo slot col candidato e dai avvio al tuo incontro one-to-one. Grazie. 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 Grazie.